Ciao ragazzacci, io sono P325 e oggi siamo qui su Farmer Dynasty, non mi ricordavo mai come si chiama, Lucido per legno. Allora noi dobbiamo anche, come si fanno queste cosine? Sapete che non lo so, fammi vedere, devo lucidarlo, ok, è figo, va parzato l'impregnante ragazzi, diventa tutto bellino, diventa, quindi ricostruiamo tutto. Io magari, non lo so, non lo so, sono andato a cercare, qualcuno dice che l'unica cosa che serve è per rendere la tua farm più bella, che ci sta tantissimo, ci sta, perché è la mia farm e la voglio bellissima, però, caspita, non è che mi cambia niente, mi cambia, cioè io speravo che magari, che ne so, si vedesse qualcosa di più, cioè, mi desse più posti animali, guardate qui gli animali miei, a parte il fatto che mi sembra che cambiano coloro ogni volta che ci vengo dentro, quindi li dipingiamo tutto con l'impregnante, almeno il piano terreno ve lo faccio vedere, poi il piano di sopra me lo faccio io, me lo faccio, sì, diventa tutto lucido, diventa tutto bellino, ma, alla fine, perché? Cioè, questo non capisco, cioè, che cosa mi cambia a me, è solo perché è bello, ma anche io son bello, eppure non son lucido, cioè, questa è una cosa che non, e ho provato a cercare, ma non si capisce perché uno dovrebbe lucidare tutte le cose, a me piaceva anche quella vecchia, cioè, uh, qua è cambiato, però, Allora, fuori è giusto, eh, devo cambiare forse i mattoni all'interno, comunque vado sopra e vi faccio anche la parte sopra, no, la parte sotto ancora deve essere finita, facciamo la scala, diventa bellissimo, diventa, è lucidissimo, che mai nella vita una stalla è così lucida, però, eh, facciamo la scala e fatemi finire questa operazione. E anche questo piano è andato, adesso voglio capire, qua, questo legnetto sul sottotetto, io come lo dipingo, forse devo andare di nuovo sopra, qui è tutto bellissimo, cioè, è bellissimo, ma, alla fine, a me non mi cambia niente, non mi cambia, quello che non capisco. Quindi, nove mucche, sempre nove ne ho, anche lì, poi c'è da dipingere tutto, andiamo a vedere che materiali ci abbiamo, perché poi, alcuni materiali non so neanche come raccogli i mattoni, non so come fare a prenderli. Ok, ciottoli, questi ciottoli qua non è che si possono mettere per terra, no, eh, pensavo i ciottoli, che so questi ciottoli, non so neanche io dove metterli. Mi servono però di nuovo quei mattoni, no, i mattoni forati, mi serve l'intonaco, intonaco cementizio, ho fatto un'operazione in più l'altra volta, secondo me, direttamente ci posso mettere, eh, lo vedi qua, direttamente ci butto sopra l'intonaco, no, i mattoni erano nuovi, quindi ci devo buttare l'intonaco. Non so se sul vecchio, sui vecchi mattoni posso mettere l'intonaco, così evito di fare due cose. Questo è ok, questo è ok, qua c'è, c'è un bordino qua, non è che mi servono i mattoni quelli là rossi, non l'ho cambiato forse. Detto, fammi vedere, dammi i mattoni rossi, dove stanno? Capisce niente, non si capisce, forse non ho cambiato il bordino interno, faccio quello esterno, poi mi scordo sempre di fare, eh, infatti, lo vedi, sui vecchi mattoni non potete mettere l'intonaco, quindi per finire la stalla dovete prima rifare i mattoni e poi potete rimettere l'intonaco. È giusto però, è giusto, perché sul vecchio mattone tu non è che ti puoi mettere lì a scherzare con lui, quindi questo è a posto, andiamo a riprendere l'intonaco, eh, sono operazioni che bisogna fare. Dammi l'intonaco cementizio e io penso che la stalla sia finita, cioè, strano che non mi abbia dato nessun, nessun, niente di niente, cioè, un obiettivo, una cosa, non mi ha dato niente. Io però penso che, a meno che non ci sia da passare un impregnante sul tetto, sulla ceramica però, che non è ceramica, è terracotta, io non passerei niente. Qui a posto, qui cos'è che c'è? Questo qui non so come, uh, caspita, questo non so come fare però, andiamo a vedere nel camion, cos'è che è riuscito? Ricostruire con, con cemento, con intorno, ah, posso rifare il pavimento di legno, ah, non lo sapevo, eh, mo, però mo non so più come fare, ok, posso rifare tutto il pavimento allora, lo faccio di un materiale migliore, qua com'è che non mi fa uscire? Aspetta, com'è che qua non si può fare? Facciamo anche questo, è che non capisco quello che devo fare, cioè, non mi spiega quello che posso, non posso fare in questo gioco. Ricostruisci con materiale cementizio? Ma io faccio tutto in cemento allora, scusa. Eh, qua posso ridargli, no, qua nemmeno, questo non so come si fa, cioè, lo vedi qua, non c'è, non è fatto bene il trigger, non c'è il trigger per rifare questo. Forse questo non si può rifare, boh. Eh, fammi scendere, fammi scendere, qua, bloccato da un ponteggio, la farm è bella, è bella, questo qui lo posso rifare. Prendiamo un po' di, eh, andiamo sul tetto, cosa c'ho di materiali? Io c'ho, eh, mattoni, fammi salire, ciotoli, nuovo tetto in ceramica, l'ho già fatto, mattoni forati, scarta vetrare, questo non mi ricordo cos'è, lucido per legno, tavolette, tetto rosso in metallo, vediamo se riusciamo a metterci il tetto rosso in metallo. qui sopra, non mai come, cioè, adesso io, come faccio a capire cosa ho fatto, dove sono arrivato, ti posso mettere il tetto rosso in metallo che dura di più, secondo me, anche se non è vero. Vabbè, io glielo metto, che me frega. Ok, mettiamoci questo, eh, no, non ho capito, facciamo un tetto da una parte di un colore e da una parte di un'altra. Tanto non penso che mi dica niente. Cioè, alla fine, io se torno qui sopra, secondo me, posso metterci direttamente quelle in ceramica. Quindi, mo, scegliamo una cosa estetica, secondo me. Sono rimasto malissimo, ragazzi, per questo camion qui che ho comprato. Il camion del nulla, proprio. Allora, che serve? Magari devo andare a dormire. Non ho ancora dormito dall'altra volta, quindi ho comprato il camion, lo sto registrando di seguito. Facciamo da una parte in metallo, da una parte non in metallo. Ok. E ok, io lo lascerei così, lo facciamo a metà. Gli diamo un tocco di classe, gli diamo. Andiamo di qua, andiamo sul... Qui io penso sia tutto a posto, eh. Non vedo altre cose da ristrutturare, a meno che non voglia mettere tutto in cemento. Io vorrei mettere tutto in materiali laterizi, quindi vorrei mettere... Dammi l'intonaco, se riuscissi a mettere anche questo tettuccio qui... Eh, prova a fartelo, prova a... No, non me lo fa fare. Nessun modo, eh. Qua dove è bucato non mi fa costruire. Vabbè, io lo lascio così. Guarda, le mucche stanno meglio, secondo me, adesso. Questo qui, non so che cos'è. Qui non si può fare niente. Aperto, attivo. Che cos'è che è aperto, attivo? Ah, le luci. Finalmente ho trovato le luci. Va bene, va bene. Eh, facciamo una cosa. Chiudiamo qui e andiamo, ormai che ci siamo, andiamo a ricostruire... Almeno passai un po' di intonaco. Lucido. Non ho questo. Voglio le tavolette. Dove stanno le tavolette? Ogni volta perdo le tavolette. Guarda, meno male che c'è sta pietra qui che mi permette di saltare. Tavolette, tavolette, dammi le tavole. Andiamo qui. Posso fare questo? Uh, posso rimettere a posto il gazebo, allora. Io rimetto a posto il gazebo. Voi mi direte, che ti serve? Niente, ragazzi. Io però lo voglio vedere bello pulito. Ci vedono schifo, si vede. Mettiamo a posto anche il pavimento del gazebo. Guarda che bellino, che sto facendo un gazebino che... Che vengono dall'altro mondo per vederlo. Ok, gazebino. Bello, bello anche così, è esagonale? Due, tre, mi sa che è ottagonale. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, otto. Sì, dovrebbe essere un ottagono. Non ne sono troppo sicuro, dovrei contare con calma, ma... Voi sapete che io non faccio mai niente con calma. Quindi fatemi mettere a posto questo, ok. Le panchinette qui? No, eh. Uh, ricostru... Non so come ho fatto arrivare sul tetto, ma ci sono arrivato. Ricostruiamo anche questo. E penso che sia a posto. Le panchinette non mi fa mettere a posto. Ok, prendiamo anche questo qui. Il lucido per legno. Devo passarci il lucido? Eh sì, devo passarci il lucido, ragazzi. È che non è il lucido, che poi è impregnante, secondo me. Questo è l'impregnante classico che si passa per proteggere... Per proteggere, come si chiama? Tutto il legno che sta all'esterno. Sto facendo una casetta qui che... Devo solo trovare la moglie. La prima cosa che mi tocca da fare è trovare la moglie. Eh, devo andare a trovare la moglie, sì. Con la mogliettina si potrebbe fare dei pargoletti che vanno in giro, rompono le cose. Io poi ammazzo. Vai così. Ok. Fammi fare questo. A meno che, ragazzi, ricostruendo di nuovo tutto quello lì non mi producano più latte? Potrebbero produrmi più latte. Sapete che forse mi produrranno più latte? Ok, questo è perfetto. Bellissimo. Andiamo a mettere a posto anche le galline. Quindi dammi i legnetti. Andiamo a mettere a posto le galline che secondo me mi producono più latte e più cose. Quindi può essere utile, può essere. Adesso sto rivalutando questa cosa. Perché lui diceva, tieni sempre a posto le cose perché ti producono più cose. Mamma mia, quello che è detto fa schifo. Però lui dice se tu metti tutto bene in ordine le galline, le mucche ti produrranno più materiali. Magari 9 galline. Prima mi facevano 20 uova ma me ne fanno 200. Andiamo a posto. Gli rifaccio anche le casette nuove. Visto che mi trovo gli faccio anche le casette. Secondo me mi produrranno più uova. Alla fine di questa puntata andrò a dormire perché voglio vedere se mi fanno più uova e cose del genere. Non sto facendo la casetta. Va bene, ho sbagliato. Perdonami. Fammi fare l'ultimo colpo. Quindi fatemi ricostruire le casette così faccio le casette nuove. Ragazzi mi sta venendo in mente questa idea che forse non è stato tutto sprecato. Forse mi produrranno un sacco di materiale in più. Ovviamente se non ci passi l'impregnante poi non c'è nessuno. È chiaro. Lo chiamano lucido io lo chiamerò sempre impregnante non mi importa niente come lo chiama il gioco. Se non ci passi l'impregnante non c'è veramente nessuno. Ok, anche nel casette gli faccio belle lucide lucide. Gli sto facendo un pollaio che è il più bel pollaio del mondo. Boh, a me... Ah no, mancano queste due. Mi sembrava a posto. Invece no, aspetta, aspetta. Mancano le ultime due casette. Io qua ho fatto tutto il fatto. Cioè di più non posso veramente fare. Intanto è notte. A meno che questo è un paro della luce quindi non lo posso toccare. Devo fare quel bordino lì. Secondo voi devo farlo quel bordino lì. Con cosa lo devo fare soprattutto? Questo è un problema. Fammi andare a vedere. Tanto le galline non scappano ragazzi quindi potete lasciare anche aperto. Io prenderei o dei mattoni o dell'intorno a cocementizio perché qui sotto secondo me ci vuole dell'intorno a cocementizio. Fai vedere? No, non è questo. Allora col caspita li devo mettere per terra. Prova andare a cliccare non è questo. C'è qualche materiale potrei anche spostare i camion invece che fare 20 km alla volta. Spostiamo un attimo i camion. Non so veramente qual è il materiale da mettere. Comunque abbiamo fatto un bel renovation della nostra casetta. Maledizione. Guarda come mi sono andato a bloccare. Guarda. Uno di qua poi gira lo sterzo andiamo da questa parte. Devo scoprire solo qual è il materiale da mettere per terra. Oh, aspetta può essere questo qui? Può essere. Come si chiama questo? Mattoni forati. No, non mi sa che sono mattoni forati. Questa è una colata di calcestruzzo bella pulita proprio. In tonaco lucido per legno tavole metallo non è questo. Scusa come faccio a salire io? Poi me lo spieghi eh. Me lo spiegherai anche bene come fare. Lucido per legno e mattoni dammi mattoni vediamo se è mattoni. F2 F2 No, non è questo. Posso cambiare i mattoni? Non posso cambiare i mattoni? Il tetto penso che sia a posto. Fai vedere metto qui fammi mettere qui il tetto aspetta c'è la porta che dà fastidio No, cos'è che ti dà fastidio adesso? Poi me lo fai capire eh Eh, no ragazzi non so veramente quello che devo fare Allora fai vedere qui c'è mattoni e non mi interessa questo qui più vicino come si chiama? Nuovo tetto in ceramica no scartavetrare proviamo a prendere sto scartavetrare che non so che caspita è non è quello che non sia questo vediamo un po' dammi qua no, non è questo non so come fai io a fare questo allora sto scartavetrare che ci faccio? Non so veramente cosa che farci Allora andiamo a dormire che voglio vedere se mi dà mi dà delle risorse in più mi dà magari andiamo a dormire tac io lascio lascio casa aperta lascio sono pazzo sono vediamo quanto latte mi dà prima me ne davano due o tre circa quindi le tue condizioni sono a posto sono uova nel pollaio prima mi davano due o tre di latte bella eh però è bello bello è bello però non cambia niente non cambia quindi fai vedere quanto latte mi date mucche clicchiamo 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 se me ne dà due o tre ho perso tutto quanto ragazzi se mi dà tre di latte non è cambiato niente lui no non è cambiato niente ma che caspita mi serve allora fare sta cosa ragazzi voi lo sapete se lo sapete fatemelo sapere perché io ho provato a guardare ma due di latte non serve a niente non serve chiudi andiamo di qua vediamo questi qua quante uova mi hanno fatto me ne davano due o tre anche loro secondo me non è cambiato niente due o tre si sempre due o tre non è cambiato niente ragazzi la casa è più bella ok però io ho perso un sacco di soldi ho perso ventimila euro che bello schifo guarda quindi va bene così ragazzi io sapete che vi dico che mi metto a riparare tutta casa perché è importante e purtroppo non è non è andata non è quello che pensavo di dover fare lui non mi ha dato nuove missioni quindi a parte andare in giro per il per il come si chiama qui questo cos'è è il mio vecchio trattore no l'intestazione del mais a parte andare in giro a arare e quello che volete io non posso fare veramente niente andiamo a vedere da quella signora se mi da qualche qualche riparazione lei off camera tipo da fare andiamo a vedere perché se io devo solo arare allora non mi serve veramente a niente sto camion sto camion qui è diventato solo il mezzo di trasporto veloce per andare a comprare il fieno per andare a comprare le cose ma non serve veramente a niente non serve vediamo che vuoi la signora arriva fin qua fermati fermati ok signora eh janet vai che vuoi eh ti posso essere utile no non te lo voglio arare non te lo haro ragazzi qui c'è questo video purtroppo non ci faccio niente con sto camion quasi quasi la nego io spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un commento mi piace di iscrivervi al canale se non siete iscritti di condividere il video se potete e noi ci vediamo nei prossimi episodi ciao 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 ciao